Bene, buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra aula magna. Un piacere davvero rivedere questa aula magna così piena. Allora l'obiettivo è quello di informarvi, farvi vivere una giornata universitaria per realizzare una scelta, quella del percorso di studio, che sarà fondamentale per la vostra vita e noi cercheremo nella giornata di oggi di darvi tutte le informazioni possibili per ragionare insieme, appunto progettare il vostro e un nuovo futuro. E allora partiamo con un po' di informazioni del nostro Ateneo, evidenziando che l'Open Day non è un giorno, ma la nostra università è davvero aperta sempre. Dove siamo? Siamo in tutta la regione, ci chiamiamo per questo Università Politecnica delle Marche, quindi abbiamo tante sedi sparse nella regione con tanti corsi di laurea. Ci piace evidenziare questa integrazione territoriale e le nostre sedi che abbiamo nelle altre aree non sono sedi decentrate, come qualcuno delle volte le definisce, sono aree nelle quali noi investiamo molto e sono sedi rilevanti come quella di Ancona. Tutto viene erogato in presenza, tutto si svolge in presenza. Quali sono le cinque aree culturali? Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze. Questo è un polo, poi c'è l'altro che è nel centro della città di Ancona, anche a San Benedetto, che è la Facoltà di Economia Giorgio Fuà. Poi abbiamo Medicina, come sapete abbiamo un'azienda ospedaliera universitaria che è a Torrette, così si definisce, ma abbiamo poi tante convenzioni anche con ospedali, con l'IRCA ad esempio. Siamo molto presenti. Quanti studenti? Oltre 16.000 e oltre 3.400 i nostri laureati e dottori di ricerca, cioè dopo la laurea, ogni anno. Quindi numeri piuttosto consistenti e un elemento che va evidenziato è che qui si studia. Quindi c'è una selezione importante e questa selezione permette però di avere questi risultati, e cioè se andiamo a vedere il tasso di occupazione dei nostri laureati sia a un anno della laurea che a cinque anni della laurea, vedete che otteniamo percentuali nettamente superiori alla media nazionale. Questo significa che chi viene qui studia, ma poi lavora. Anzi in certi casi ci sono dei corsi dove prima di finire si è contattati e facciamo difficoltà a soddisfare tutte le richieste del mondo del lavoro. Un altro aspetto importante, poi ne parleremo, è la dimensione internazionale. Noi permettiamo di fare stage all'estero, da due a un anno, quindi un periodo anche piuttosto consistente, poi ci sarà una novità che vi riguarda, potrete già decidere quest'anno per il prossimo anno di iscrizione al primo anno di laurea. Noi abbiamo 40 borse ma ne parleremo successivamente, quindi sarà molto interessante questo aspetto. E questa esperienza all'estero è fondamentale, in tutto il mondo noi siamo presenti e consentiamo un'esperienza di vita, perché non è soltanto un'esperienza di studio e di lavoro. Cioè andare all'estero sei mesi, sette mesi cambia la vita. Noi abbiamo realizzato un progetto che si chiama Campus World con Banca Intesa, con la Banca del Piceno, con la Camera di Commercio delle Marche. Noi stessi investiamo moltissimo e vi assicuro le emozioni delle nostre studentesse e dei nostri studenti che ci raccontano come è cambiata la loro vita. Un 30% rimane a lavorare all'estero, un 70% però rientra e si mette in un circuito internazionale, che è la cosa che a noi interessa. I nuovi corsi. Guardate, negli ultimi tre anni abbiamo investito nella progettazione formativa con 15 nuovi corsi di laurea. Credetemi, è un investimento enorme da questo punto di vista e solo quest'anno, sono in corso di approvazione dal Ministero, ne abbiamo sei, di cui tre in lingua inglese. Sono tutti corsi talmente interessanti e non attuali, ma proiettati al futuro che se potessi li andrei a frequentare anch'io. Guardate, Digital Economics and Business è tutto il tema del digitale applicato all'economia. ingegneria dei videogame e della realtà aumentata virtuale ed estesa. Ingegneria per l'ecosostenibilità industriale. Green Industry Engineering, sempre in lingua inglese. Medicina e tecnologia, lingua inglese, ciclo unico diventi medico e hai la possibilità di diventare anche ingegnere biomedico. E poi scienza della nutrizione e dell'alimentazione. Sono tutti corsi multidisciplinari. Qui c'è il futuro. Quindi prima di pensare di andare via, fate una bella riflessione, perché qui c'è molto. Quanti siamo? Se noi sommiamo tutte le diverse tipologie di colleghi, otteniamo oltre 2.300 unità. Quindi siamo una struttura complessa e riusciamo però, come vedete, ad attrarre anche autonomamente, grazie a vari progetti, tante risorse. Da questo punto di vista la ricerca è fondamentale. Ecco, quello che un po' distingue l'Università dalla Scuola Superiore è che, oltre alla didattica, un ruolo fondamentale ce l'ha la ricerca. Ogni docente è sì un didatta, ma dal punto di vista della sua attività prevalente è un ricercatore. Qui abbiamo su 12 dipartimenti 8 considerati di eccellenza a livello nazionale, ma soprattutto abbiamo avuto dei riconoscimenti mondiali. 15 agosto è stata emanata una classifica a livello mondiale e siamo collocati al 290esimo posto a livello mondiale per la ricerca. Di nuovo un risultato, Antonio, sorprendente. E la ricerca è strettamente connessa alla didattica, perché tu puoi fare una buona didattica se hai realizzato una ottima ricerca e quindi da questo punto di vista c'è un forte collegamento. Ma collegato anche a questo c'è il nostro ruolo per il territorio, perché l'università non è chiusa, ma è fortemente integrata col territorio. I brevetti che vengono depositati, che cos'è un brevetto? A fronte di un'attività innovativa, scopri una molecola, vai a brevettare e quindi consenti poi la valorizzazione di quell'idea. Oppure la creazione di nuove imprese, gli spin-off, che daranno lavoro, che danno lavoro. È un'altra attività fondamentale che ci lega al territorio. E tutto questo ci permette di avere dei risultati in termini occupazionali, come dicevamo, tanto che nella nostra banca dati troviamo 3.000 imprese che sono lì presenti per interfacciarsi, come vedete, con 26.000 laureati. Quindi da questo punto di vista grande interazione anche nel mondo della sanità. Perché, come dicevamo prima, abbiamo un'azienda ospedaliera universitaria e la nostra presenza nella sanità è molto, molto consistente. Esaminando un'altra specificità del nostro Ateneo, troviamo un'azienda agraria didattico sperimentale che realizza prodotti, per chi fosse interessato, appassionato di agricoltura, vengono realizzati tanti nuovi prodotti. Quest'anno lo spumante, Marco, la birra, abbiamo fatti davvero tantissimi di prodotti. Ma anche, vedete, l'orto botanico. E anche in questo caso l'approccio multidisciplinare è fondamentale. Nuove tecnologie rispetto all'agricoltura tradizionale. Alcuni concetti di chiusura. Il futuro non si prevede, si costruisce, siate voi gli artefici del vostro futuro e del futuro della comunità. Tanto non c'è da aspettare, bisogna che diventiamo proattivi noi. Tutto è fermo? No, tutto si muove, basta che il pesce incomincia a roteare, cambierà tutto. E allora bisogna adattarsi al cambiamento. E' inutile essere più fuori? No, no. Se non sei e non ti adatti al cambiamento, sei fuori dal cambiamento. E allora qualche concetto anche di riflessione. Uno, il tempo. Bene è più prezioso che avete adesso, è il tempo. Investitelo bene. Perdere tempo adesso, non lo recuperi, non lo recuperi più. Quante volte, no Simonetta, che ringraziamo, dottoressa Laureti per l'entusiasmo che ci mette, parlando con amici o figli di amici che mi dicono, ah, che errore che ho fatto a smettere di studiare o che errore che ho fatto a non iniziare a studiare. Quell'errore lo pagherai sempre e sarà il rammarico di una vita. Mi è capitato tante volte. Il tempo in questo momento è il fattore principale, ma al tempo stesso l'impegno, perché senza impegno non si fa nulla, ma anche l'ambizione, ma un'ambizione sana di quella che richiede l'impegno e ti permette di ottenere risultati, non l'ambizione fatta a discapito degli altri o non rispettendo le regole. L'ambizione di per sé è un fatto positivo se orientata allo sviluppo e al miglioramento. E poi ancora essere determinati nel quello che si vuole fare, ma al tempo stesso, vedete, abbinare due elementi. Da un lato scegliere con la testa, con la razionalità, perché il sogno in quanto tale, se non è con i piedi per terra, se andate a vedere la definizione parla di qualcosa di irrealizzabile, può essere anche pericoloso. Quindi l'aspetto razionale ci vuole, poi però ci vuole la passione, ci vuole il piacere. Perché se consideri che nel lavoro tu investi la maggior parte della tua vita, se fai un lavoro che non ti piace, dura, eh? Quindi da questo punto di vista il tuo piacere nel fare una certa attività diventa fondamentale, quello che non ti fa mai guardare l'orologio. Sinteticamente due considerazioni. La prima è che sicuramente stiamo vivendo un periodo complesso, l'abbiamo vissuto, ma ricordo che i vostri bisnonni, i miei nonni, non solo non potevano studiare, ma dovevano combattere, cioè decidere se ammazzare qualcuno o farsi ammazzare. E questa situazione, per noi oggi scontata che non ci sia, non è scontata dappertutto, eh? Perché questa è la situazione che si trova in alcune parti del mondo ed è bene tenerlo presente. La seconda considerazione è che noi diamo di nuovo abbastanza per scontato che si possa studiare, ma non è così in tutte le parti del mondo e non era così ad esempio per i miei genitori. Ed è questa la situazione che troviamo in alcune parti del mondo, dove Daniel, se vuole studiare, deve andare sotto la luce pubblica. Quindi il messaggio che vorrei darvi è studiare è una grande opportunità. Conviene, anche dal punto di vista pragmatico, perché le retribuzioni sono maggiori per chi mediamente non ha studiato, oltre che una crescita personale, professionale, è importante per la società. Per cui iniziate la vostra giornata universitaria e auguri a tutti per la vostra scelta.